Pronti, posizione, fight! Stokes contro Gomez, questa è la semifinale gente, ci siamo! È incredibile vedere due campioni del genere a confronto! Ottima mossa, Gomez è a terra! Ora è Stokes a stare sotto! Ecco una raffica di pugni al gioco! Come va Tim? Figlio di puttana, dovrei prenderti a calcio in culo! Posso avere il numero di quella troia di tua madre? Come? Cosa? Cosa hai detto? Amico, fa attenzione a quel pavimento, è scivoloso, mi stavo per rompere la schiena. Devo andare, buona fortuna per il tuo incontro. Che spettacolo! Dei campi incredibili! Grandi ginocchiate alla testa! Gomez alla meglio! Fugno a gusto! Che ginocchiate ragazzi! Questi sono colpi alla superman! Questi ragazzi stanno impazzendo! Wow, che grava la mossa dell'anaconda! È così che si fa! Sta stringendo! Ok, ha battuto! Gomez ha battuto! È finita! E c'è l'anaconda! Che incredibile mossa dell'anaconda ragazzi! Zack, mi senti? Che è successo? Non lo so, era una semplice presa. Stai bene ragazzo? Oh! Quante dita sono? Quante sono? Dieci, brutto idiota! Sta bene gente! Si è rimesso in piedi! Avanti, un forte applauso! Fate un po' di rumore! Per entrambi i combattenti! Non sappiamo dove sia Tim Newhouse! Ma ecco qui il suo avversario! Justin! Manca ancora Newhouse! Qualcuno può trovare Newhouse? Toccherebbe a lui! Newhouse sul ring! O nella gabbia! Immediatamente! Cos'è successo? Justin mi ha rotto il ginocchio! Cavolo, non riesce a camminare! Che succede amico? La gamba? Puoi continuare? No! Allora devo comunicarlo! Mi dispiace! Mi sa che tocca a te Mike! Combatti anche per me amico! E adesso accogliamo i nostri combattenti della finale! Justin, Epstein e Mike! Cosa mi sono perso? Io sono felice di vederti qui! Sono felice anch'io! Ehi, tutto bene? Tutto ok! E tu che mi dici? Cosa hai fatto alla gamba? È una lunga storia! Guardate! Mike contro Justin! Che ne dite? Il bene contro il male! Andiamo fuori! Grazie! Grazie per la provincia!